Parte la campagna vaccinale Ercolano. Da stamattina è operativo il centro vaccinale ospitato presso i locali del centro anziani in Vialdomoro. La struttura, dotata di tutti i comfort e le attrezzature, sarà operativa tutti i giorni grazie anche alla convenzione stipulata tra ASL e medici di base. Un ambiente sicuro e facilmente raggiungibile al centro della città. Circa 150 le dosi somministrate in questo primo giorno, ma il numero è destinato a salire nelle prossime settimane, man mano che la campagna vaccinale entrerà nel vivo. A Ercolano stiamo lavorando senza sosta per sconfiggere il coronavirus e oggi abbiamo raggiunto un risultato importante per consentire agli ercolanesi di vaccinarsi a Ercolano. Un risultato raggiunto grazie alla collaborazione di tutti, grazie all'ASL, ai suoi dirigenti che insieme all'assessore del comune di Ercolano, Maria Arca Cascone, hanno lavorato per rendere subito usufruibile quest'area. Grazie ai medici di base che hanno offerto la loro attività professionale per consentire di eseguire quanti più vaccini è possibile. Grazie ai volontari della protezione civile, della Croce Rossa, davvero grazie a tutti. Per raggiungere la luce fuori al tunnel abbiamo bisogno dei vaccini. Ora che sul territorio di Ercolano è presente il centro vaccinale voglio ricordare che tutte le persone fragili e gli anziani con più di 70 anni possono registrarsi sulla piattaforma e prenotare per la vaccinazione. Vaccinarsi è un dovere di tutti, per tutelare la propria salute e di chi è accanto a noi. Noi dobbiamo vaccinare tanto perché questa è l'unica soluzione che abbiamo per risolvere il problema Covid. Ringrazio intanto il sindaco che ci ha permesso di stare in questa sede che è luminosa, è bella e ha tutto. Ringrazio gli assessori che mi hanno collaborato, anzi ho collaborato con loro affinché tutto risultasse perfetto, quasi perfetto. I medici di base che stanno al nostro fianco, tutti i funzionari ASL e ringrazio il mio direttore generale che ci sollecita un minuto sì e un minuto no affinché noi facciamo sempre di più. Sono molto orgoglioso in qualità di coordinatore dei medici di medicina generale di Ercolano perché noi diamo un effettivo contributo a far sì che finisca una volta per tutto questo problema del Covid-19 almeno per quanto riguarda la città di Ercolano. Grazie a tutti.